Secondo incontro, oggi a Cagliari può rendere operativa la task force di intervento nell'area industriale di Ottana e utilizzare i primi 4,2 milioni di euro disponibili. Alla riunione, presieduta dal vicepresidente della regione Raffaele Paci, sono intervenuti gli assessori dell'industria Maria Grazia Piras, del lavoro Virginia Mura, dell'agricoltura per le gicarie e degli affari generali Filippo Spanu. Presenti anche il sindaco di Ottana Franco Saba, l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro, Costantino Tidu, e il presidente del consorzio industriale Piero Guiso. Per fronteggiare la crisi di Ottana sono già stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro che sono destinati a 130 lavoratori che hanno perso la mobilità in deroga. Oggi è stata annunciata la disponibilità di altri 2 milioni di euro per politiche attive del lavoro, fondi che verranno ricavati dai 4 milioni di euro che il Piano Lavoras ha messo a disposizione delle situazioni di crisi sarde, come chiesto dal presidente della regione Francesco Piglieru. Sono tre le direttrici di intervento, migliorare l'attrattività della zona e garantire sostegno alle imprese già esistenti, mettere a punto eventuali altri bandi da legare a quelli del Piano per il rilancio del Nurese, sostenere la trazione di nuovi investimenti. Gli assessori della Giunta Piglieru sottolineano una nota alla regione e hanno ribadito che la questione Ottana è prioritaria per l'esecutivo e che saranno messi in campo immediatamente tutti gli interventi necessari per rilanciare nel più breve tempo possibile una zona così fortemente colpita dalla crisi.